Sintra ha deciso di andare ad indagare in questo periodo la modalità del lavoro da casa proprio perché a livello aziendale è stata applicata in maniera massiva. Quindi ovviamente ci si è preoccupati di quello che attualmente è lo stato d'animo delle persone che si trovano in questo isolamento forzato, seppur continuando a lavorare e ad essere produttivi e ad avere continuamente contatti con i loro colleghi tramite tutti quelli che sono gli strumenti che sono stati messi a disposizione. Tutto questo ovviamente ci ha fatto comunque improntare l'indagine su quelli che possono essere sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi legati a questa modalità di lavoro. I dati che emergono da questa indagine che abbiamo fatto a Sintra sono molto interessanti. Le domande del questionario erano una quindicina ma possiamo riassumere tutte le risposte in due o tre macro concetti. Innanzitutto lo smart working piace molto come modalità operativa. Oltre il 90% di chi lavora a Sintra infatti continuerebbe ad utilizzarlo anche dopo questa emergenza. piace perché sono estremamente elevati sia la qualità del lavoro che l'efficientamento dello stesso e col tipo di lavoro che facciamo non è un problema utilizzare la tecnologia a distanza. Infatti oltre la metà dei rispondenti dice di non avere alcuna difficoltà a lavorare a casa. I dati che abbiamo raccolto evidenziano una piena accettazione da parte di tutti i collaboratori nonché un efficientamento generale di gran parte delle attività. Per contro a tutti noi mancano i rapporti personali tra colleghi ed i momenti conviviali. Per tutti questi motivi anche nel post-covid intendiamo estendere l'adozione dello smart working a tutta l'azienda cercando di dare libertà nel gestire il lavoro da casa per una parte dell'orario di lavoro. I dati e le nostre esperienze portano a considerare uno o due giorni alla settimana come una configurazione ottimale di lavoro da remoto. Vogliamo così consolidare il passaggio dal concetto di tempo impiegato al lavoro al concetto di valore trasferito verso il mercato. Crediamo che questo possa essere di comune beneficio per tutti per l'azienda, per i nostri clienti, per i collaboratori e per le loro famiglie.